Pubblicata l'ordinanza numero 27 del 15 dicembre 2021, firmata dal presidente Vincenzo De Luca, che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19. I contenuti del dispositivo dell'ordinanza prevedono, fatta a salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l'obbligo di rispetti delle disposizioni nazionali vigenti su tutto il territorio regionale. A decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022, per l'intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua nelle aree pubbliche, i ricompresi gli spazi antistanti, gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all'aperto, nel rispetto del distanziamento previsto. Nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento. È confermato l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all'aperto, in ogni luogo non isolato, ad esempio nei centri urbani, piazze, lungomari, nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere e contesti di trasporto pubblico all'aperto. Nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022, dalle ore 11 e fino alle ore 5 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione, fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua. È fatta raccomandazione ai comuni ai fini dell'adozione laddove necessario di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico, in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, ai sensi delle disposizioni vigenti. È fatta raccomandazione ai comuni e alle altre autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone del Cd Movida.